Ma cos'è? Potrebbe essere un sacco di cose. Tutte spiacevoli. Ehi, falla finita. Ecco il nostro biglietto per il regno degli spiriti. Ho già avuto spaventi a sufficienza per stasera. Adesso ho solo voglia di un bel bagno caldo. Buon divertimento. Scusa! Come vuoi fare questo? Sei fatta! Sei fatta! Jessica! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Cazzo! C'è un individuo che consideriamo come persona di interesse, ma al momento non sappiamo dove si trovi. Sappiamo che sulla montagna c'è ancora il vecchio sanatorio. Potrebbe nascondersi lì? Gesù! Così non va. Non va per niente. Non va per niente. Cazzo! Cazzo! Bene. Diamo un'occhiata da vicino. Bene. 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 Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Oggi, 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 oggi. Oggi, 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 oggi. Oggi, 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 oggi. Oggi, 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 oggi. Oggi, 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 oggi. Ho tre civette sul comò che facevano dove cazzo devo andare, ok? Grazie a tutti. Oh, ma questo cosa sarà? Chi? Chi avrebbe? Chi? 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.